benvenuti al canale simone bulleri youtube benvenuti siete se siete arrivati qua cioè all 89esimo podcast o siete completamente folli o siete degli eroi o siete degli eroi folli tutte e due le cose noi sicuramente la nostra dose di follia l'abbiamo anche a fare questa impresa don chisciottesca che però adoriamo e continueremo fino al centesimo podcast di ritratti di filosofi e pedagoghi del dell'ottocento politici pensatori politici dell'ottocento italiani e come dire questo questa prima parte del canale simone bulleri youtube è come una grandissima passeggiata in un grande limbo dantesco dove ci troviamo appunto tutti i personaggi del tutti i personaggi che hanno reso la cultura italiana dell'ottocento grande e 800 e 700 anche in alcuni casi grande europea e apprezzata nel mondo anche se con dei grossi difetti di originalità che è questa la cosa che ci fa scervellare noi italiani da sempre grandissimi inventori architetti ingegneri del pensiero del pensiero del delle costruzioni dell'arte nel pensiero ecco siamo stati pensiero ottocentesco siamo stati fortemente influenzati dalla dal dal dall'eglismo non solo noi è l'eglismo è penetrato anche in dappertutto insomma in in spagna in francia voglio dire egel è stato un pensatore l'ultimo grande sistematico che ha influenzato insomma diciamo tutto il pensiero occidentale ovviamente che poi è stato portato anche a in america certo però ecco la cosa che ci incuriosisce le domande che ci facciamo naturalmente siamo aperti a qualsiasi intervento magari è una mancanza nostra perché non abbiamo studiato approfonditamente qualche questa cosa cioè della mancanza di originalità nel pensiero italiano con alcune punte ovviamente di originalità ma grosso modo il pensiero italiano dell'ottocento diviso fra positivisti nella seconda metà dell'ottocento prima metà egheliani fine ottocento altri egheliani scusate i famosi begriffi napoletani no che se il legalismo napoletana di scuola napoletana e poi che questo legalismo che è diventato il neorealismo il neo idealismo italiano con croce e gentile comunque ecco questa grande passeggiata prosegue scusate il come dire il cappello un po pedante e nicolò andria nicolò andria nelle sue osservazioni generali sulla teoria della vita del 1804 hanno importantissimo hanno importantissimo il 1804 perché il 21 marzo del 1804 veniva pubblicato per la prima volta quella genialata del cod napoleone il codice napoleonico ovvero quel codice civile attualmente in vigore in francia ed uno dei più celebri nel mondo così chiamato perché voluto dal corso servendo da modello influenzando tutti i codici successivi ed esercitando una notevole influenza in numerosi paesi del mondo e nel 1804 invece il medico e filosofo italiano francesco nicola maria andria scrive citiamo a fronte dei profondi misteri dell'immensa ed eterna meccanica con lo quale l'autor autoscritto maiuscolo ovviamente del tutto ha voluto che siano le cose disposte ed ordinate la forza dell'umano intendimento si trova per l'ordinario talmente oppressa dalla propria picciolezza ed imbecilità che o totalmente impossibile le riesce di penetrarvi dentro o appena le è concesso di conoscerne le più esterne apparenze e che il dirà nulla è più profondo di ciò che appare in superficie oppur finisce andrea finalmente sembrando le di essere riuscita nel suo disegno realmente non fa altro che bellissimo questo passaggio delirare e perdersi dietro la brevità e l'inezia delle sue idee allora sicuramente insomma da quello che scrive come un tecnico di filosofia direbbe subito questo è un antirazionalista comunque è o ha delle influenze kantiane perché si parla assolutamente della picciolezza della finitezza della mente umana addirittura la forza dell'umano intendimento cioè della mente umana si trova per l'ordinario talmente oppressa dalla propria picciolezza ed imbecilità che non riesce a penetrarvi dentro c'è anche lo scarto giordano bruno fra no umbra profonda sumus siamo ombre profonde che riecheggia a sua volta il pensiero fra lo scarto fra finito infinito di stampo cusaniano ma andiamo a vedere da vicino chi era questo francesco nicola maria andrea nato a massafra scusa perdona i pugliesi mi perdi mi perdonino l'accento ci perdono l'accento perché non è la prima volta che lo sentiamo nominare e nella provincia di taranto in puglia che poi è diventato nel 1939 sotto il fascismo è diventato città nasce il 10 settembre del 1747 e muore a napoli nel 1814 fu medico e filosofo italiano e nacque tre anni dopo la sua morte il suo nome apparve nella biografia degli uomini illustri del regno di napoli il suo primo profilo bibliografico fu curato da gennaio terracina e francesco studiò nella città partenopea studiò giurisprudenza pubblicando nel 1769 un discorso politico sulla sua sulla servitù e decise poi di proseguire i suoi studi applicandosi alla medicina questo l'abbiamo fatto notare un sacco di volte nel nell'ottocento ci sarà poi la settorializzazione degli delle discipline dei canali però ancora si poteva uno poteva studiare giurisprudenza poi passare a medicina poi poteva serenamente occuparsi di letteratura poteva occuparsi di architettura insomma i passaggi c'erano professori di filosofia che avevano cattedre di filosofia l'anno prima e l'anno dopo di logica matematica insomma era c'era una fluidità una mobilità che oggi è impensabile anche vabbè ovviamente il paragone è facile la prima cosa ci viene in mente dire adesso è tutto talmente specializzato che se uno insegnasse filosofia l'anno prima e fisica l'anno dopo verrebbe visto con perlomeno con sospetto un po come alberto sordi nel film troppo forte che un giorno è un avvocato il giorno dopo è un coreografo di amante spettacolo allievo di domenico cutugno francesco andria non sordi che fu un medico anatomista e chirurgo italiano e di giuseppe vairo a soli 23 anni francesco aprì a napoli una scuola privata 27 concorse con il cirillo per l'ottenimento della cattedra di medicina pratica poi conferita purtroppo al cirillo e la sua attività di cattedratico svoltasi fra il 7 all'800 nel contesto di un particolare periodo storico fu la sua attività di cattedratico principalmente di ricerca didattica presso l'università regia degli studi di napoli insomma federico secondo dove ricoprì vari insegnamenti dalla storia naturale alla medicina teoretica e pratica e addirittura ascoltate bene alla agricoltura pubblicò diverse opere ad uso degli studenti di medicina quindi dei degli abbecerari di medicina ed apprezzate altresì in varie parti d'europa questo lo vogliamo sottolineare la cultura era europea non era solo italiana nel 1808 prese francesco nicola andrea prese a dettare lezioni medicina teoretica tre anni dopo di patologia e di nosologia ricordiamo che la nosologia è la scienza che si occupa della classificazione sistematica delle malattie fu congedato nel 1814 malato ormai cieco insinito del titolo di cavaliere dal cognato di napoleone gioacchino murat re di napoli e maresciallo dell'impero con buona parte e il 9 dicembre morì di tifo a napoli dove fu seppellito nella bellissima chiesa di santa sofia insieme al collega al collega antonio sementini andrea subì per più di un secolo una qui dicono su le fonti online che sono sempre wikipedia e treccani e alcuni articoli presi da studiosi quando li troviamo dei protagonisti fu subì una congiura filosofica perché era medico e perché era di massafra da cui gli epiteti spesso riferiti alle sue origini provinciali tuttavia nicolò francesco nicolò maria andrea fu decano a napoli ed ebbe amicizia e consuetudine epistolare con i nomi più noti ed importanti del panorama scientifico europeo dell'epoca non esistono studi sull'autore eccezione fatta per alcuni contributi arenatisi agli anni 80 del secolo scorso nel 1980 si sono arenati questi studi nicola andrea fu socio fondatore e membro dell'istituto di incoraggiamento del comitato centrale di vaccinazione nonché di altre molte accademie italiane a massafra città del medico filosofo come gli stesso si definisce porta nel suo nome ben tre vie il 10 settembre del 1997 in occasione del 250esimo anniversario della nascita a massafra è stato fatto un annullo filantelico speciale e una cartolina commemorativa citiamo ancora il suo pensiero e poi un'espressione di vulpes sugli elementi di chimica filosofica del 1813 vulpes dice il filosofo in tutto questo giro di cose ravvisando le tracce della sapienza infinita di un dio è obbligato ad esclamare quanto ammirabili o signore sono le opere tue vabbè questo ci dice poco riprendiamo andrea sulle osservazioni generali non vi è una materia in natura che abbia per sua qualità intrinseca la vita e meriti perciò di essere chiamata vivente nella vita è un fenomeno semplice che una sola materia appartenga e nasca da una sola forza molte sono le materie queste fra loro diversissime che concorrono alla formazione di una macchina in cui la vita risiede le quali materie intanto trovandosi separate né una vita producono vabbè qui ci sono un pensiero molto abbastanza oscuro il contesto storico in cui andrea viveva fece da cerniera i due secoli più importanti della storia della scienza appunto il settecento ottocento e hanno gestato l'umanità contemporanea ma ha provocato anche guerre e portato l'uomo sulla luna andrea vive a napoli per certi versi quasi fulcro e convoglio delle principali idee scoperte dell'epoca famoso illuminismo napoletano la sua particolare sensibilità di scienziato di formazione filosofica lo porta ad assorbirne il carattere rivoluzionario e ad anticipare i tempi ricordiamo che chi ha una formazione filosofica fosse anche epistemologo scienziato dovrebbe sempre tenere cercare di tenere presente il quadro generale e possibilmente cercare di anticipare per lo meno con la storia delle idee conoscendo la storia delle idee ulteriori idee oggi questo significa riorientare la ricerca scientifica verso un fine che non sia l'utico l'utile economico o l'utile politico l'utile militare basta ma ricerca del vero e del bello nella tutela e nella salvaguardia di tutta l'umanità dagli anni 50 dell'ottocento la circolazione delle idee di andriane di freno vitalistico al meccanicismo più sterile però le idee si arenano sulla spona del nuovo lido appunto quel meccanicismo biologico che dell'anima del pensiero ha fatto un solo aggregato chimico di molecole l'eco dell'appello di nicola andria così instaccabilmente perpetrato in ricerca come in didattica purtroppo si perde si perde alle soglie di una svolta importante la stessa che avrebbe prodotto appunto il delirio dei nazionalismi e la grande guerra cioè la credenza che debba sopravvivere il più abominevole degli uomini dove fortezza vale essenzialmente in umanità disumanità non umanità andria se avesse prevalso il pensiero di andria evidentemente come dire certe feratezze sarebbero state più tenue grazie iscrivetevi al canale simone bulea di youtube grazie ancora della vostra preferenza accordataci grazie 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 grazie